Ciao, buongiorno, sono Michele Cuperi, sono sales executive della filiale italiana di Gazam. Oggi voglio far vedere i prodotti che abbiamo, il portafoglio di prodotti nel mercato italiano. Partiamo dai telefoni future phone, quindi telefoni economici alla poppata di tutto, il classico telefono da pluscotto, che può servire per qualsiasi emergenza, da un prezzo da 24,90 euro, fino ai telefoni un po' più derivati, abbondanziani, con il tasso SOS, la gestione degli uomini separato e il tasso SOS dietro per le emergenze più importanti. Possiamo vederlo di qua, il tasso si può abilitare anche a telefoni future. Grazie.